eccoci qui come state amiche e amici ben ritrovati di nuovo buona giornata speriamo in febbraio visto che gennaio è stata una roba mamma mia l'anno prossimo secondo me ci ricorderemo ancora di questo gennaio da un punto di vista sportivo pessimo iscrivetevi mi raccomando siamo quasi 87.100 stiamo andando a gonfie vene lasciate un like commentate numerosi iscrivetevi soprattutto se avete già visto i nostri video e entrate a far parte della nostra community ovviamente gratuito così come è gratuito ve lo consiglio di scaricare gratuitamente l'app di one football l'app numero uno con tutte le notizie esclusive live calcio mercato gli highlights che potete vedere sul vostro dispositivo è sponsor del milan è sponsor della serie a è personalizzabile a seconda della vostra squadra del cuore cioè ovviamente il milan ne vale la pena fidatevi io ce l'ho e non posso farne a meno qui sotto vi metto il link nella descrizione potete andare e tornare io vi aspetto allora ragazzi ovviamente adesso ci proiettiamo ancora in maniera più convinta e speranzosa al campo ai prossimi mesi e rinnovi a tutto quello che sta accadendo domenica gara contro l'inter che ieri contro l'Atalanta ha fatto vedere di avere la gamba mi sono sembrati davvero in condizione e noi non siamo in condizione né fisica atletica né psicologica quindi è dura è dura io ve la racconterò o la vivrò insieme a voi se la vedete in diretta qui ci facciamo forza vicenda su su milanello domenica sera appunto in una live reaction con anche la mia cronaca cronaca sarebbe importante strappare almeno un pari in questo momento vedendo la situazione insomma è una partita delicatissima ma proprio issima 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 per tanti motivi oltre che di classifica anche di testa fattore mentale psicologico rivalità ci mettiamo tutto diciamo subito che oggi Tomori fa degli esami e potrebbe recuperare per la gara di domenica voi direte capirai per come sta giocando Tomori vero però io dico una cosa che se tu recuperi Tomori e fai giocare Tomori con Kier a destra puoi mettere Calulu in un momento in cui Calabria è davvero sotto condizione terribilmente sotto condizione ogni volta che lo puntano lo saltano mettere lì Calulu secondo me ci dà più copertura più solidità anche perché loro da quella parte hanno un di Marco che sta facendo un'ottima stagione ha spinta punta salta fa cross e noi dobbiamo cercare di limitare magari la sua spinta Calulu lì secondo me se si recupera Tomori può essere un'idea con dunque Teo, Kier, Tomori e Calulu si cambia un po' forma una difesa che sta prendendo gol sempre troppi anche per il portiere ma non solo per il portiere perché entrano in area con una facilità estrema detto che a me piacerebbe vedere anche Ciao ecco però la coppia Kier-Ciao mi sembra un po' troppo lenta per questa gara ecco avendo loro anche un giocatore come Lautaro per cui un Tomori forse può essere sulla carta l'uomo giusto anche se nel derby di Supercoppa insomma è stato superato come un birillo Dest sta meglio potrebbe recuperare anche lui vediamo oggi insomma come va mentre per quanto riguarda Mignon siamo su sempre la speranza per la gara del 14 di febbraio San Valentino contro il Tottenham o quella con il Monza speriamo ovviamente Tottenham non la voglio definire una corsa contro il tempo perché qui non stai correndo contro nessuno nel senso che devi fare le cose fatte bene anzi devi rallentare contro il tempo speriamo di averlo ovviamente perché sarebbe un recupero che ve lo dico a fare importantissimo oltre che per il campo per il fattore tecnico anche per quello carismatico e per lo spessore la personalità una cosa la voglio dire mi arrivano messaggi di ogni tipo circolano audio ricostruzioni fantasiose mi hanno detto questo uno che conosce quell'altro quando le cose vanno male succede sempre che si sente la qualunque hanno è successo questo uno spogliatoio un'altra cosa Mignon non è fuori per infortunio ma perché ragazzi non andate dietro alla qualunque c'è gente che lo fa apposta si mette lì si diverte fa cose mette in giro la voce ma sono delle mali lingue non state dietro a queste fake news mi raccomando e questo mi ha detto no però conosce poi circola quest'audio vedo anch'io ho saputo dallo spogliatoio ragazzi calma 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 e ogni volta che una squadra va male ogni volta che un giocatore sta fuori circolano queste cose bisogna avere la maturità per distinguere per capire che certe cose insomma non sono non sono vere questa è una cosa che ci tenevo a dire e che mi sembra e che spero possa ecco essere una risposta definitiva non perché mi dispiace rispondere sempre ma perché mi dispiace soltanto che qualcuno di voi magari possa pensare cose brutte sul nostro portiere o che nello spogliatoio sia il far west ecco questo questo vi dovevo ci tenevo per tutti quindi la situazione è già complicata non complichiamolo ulteriormente non inquiniamo i pozzi perché poi uscire da questa crisi diventerebbe ancora più complicato non ci sono cose vere bisogna dirle non ci sono cose false ma detto che sono fake news neanche news non lo definirei neanche news è becero pettegolezzo inventato ecco o spettegolezzo allora ragazzi poi due notizie la prima partiamo così non è finita non è ancora finita per Bakayoku ieri un altro ieri già dopo le 20 quando il mercato in Italia era finito nuovo tentativo della dama Demir Spor in Turchia che non so che cosa ci ha visto in Bakayoku il loro mercato chiude l'8 febbraio quindi c'è ancora una settimana per fare questa operazione e Bakayoku che si era convinto a lasciare Milano per andare alla Cremonese voleva rimanere in Italia però sembra che ci possa essere uno spirale di apertura nei confronti del club turco che porterebbe il Milano a risparmiare circa 2-8 all'ordo appunto fino a giugno 2-8 di risparmio che non aiutano a comprare qualcuno adesso ma che sulla carta ti possono aiutare per un rinnovo o in estate per avere magari qualche milioncino in più da investire poi mi rendo conto che in questo momento ci sia una sfiducia tale anche con divisa che si pensa che questi 2-8 se li risparmi tanto il Milano li spenderà il Milano non comprerà mai nessuno non sarà così in estate ovviamente saremo operativi e dovremo fare diverse cose quindi vediamo se Bakayoku va speriamo si taglia un ramo secco si toglie un muso lungo e via non ha senso che lui resti qui ma per tutti perché così mettiamo fine anche a un'esperienza clamorosamente sbagliata da lui che ha interpretato male il suo ritorno al Milan e da chi lo ha scelto che non ha capito che in quegli occhi non c'era esattamente tanta voglia di di fare il calciatore ad alti livelli evidentemente cosa che abbiamo toccato con mano anche negli ultimi tempi poi è arrivato l'Everton a Milano ha presentato ieri un'offerta per Giroud un'offerta anche importante per il suo ingaggio ma Giroud l'ha rifiutata alla faccia di qualcuno che diceva che aveva nostalgia della Premier che la moglie qui non stava bene voleva tornare in Inghilterra rifiutata e vi posso dire anche che nei prossimi giorni Olivier Giroud metterà una bella firma sul contratto che lo legherà al Milan almeno per un altro anno forse con opzione per il secondo lui vorrebbe un biennale il Milan l'anno singolo secondo me alla fine si può trovare la quadra con un anno in più con opzione se succede qualcosa insomma parametri magari di squadra tipo la Champions League piuttosto che individuali non credo se lui magari fa un tot di presenze Giroud ragazzi a parte quel periodo di appannamento che magari ancora oggi sta vivendo ma l'altro giorno ha fatto una signora partita oltre al gol il gol annullato è stato l'ultimo ad arrendersi a parte quelle tre settimane di riserva sparata sta facendo una stagione greggia e quindi averlo insieme anche l'anno prossimo è molto molto importante giocatore che abbiamo apprezzato in tanti dal primo giorno anche prima ancora che arrivasse ricorderete avevamo raccontato la trattativa anche quando qualcuno diceva che era naufragato tutti dicevano che era naufragato avevamo un film diretto con il suo entourage e rifiuta l'Everton e firmerà il contratto con il Milan che che poi dunque lascerà soltanto non raggiunto al momento quello di Rafa Leao per il quale la situazione è sicuramente molto più ingarbugliata per il quale poi dobbiamo fare dei chiarimenti abbiamo scoperto delle cose la situazione è diventata anche un po' incandescente dopo le indiscrezioni ieri della Gazzetta la risposta del Milan la contro risposta della Gazzetta abbiamo un po' di elementi in mano e magari nel prossimo video andiamo a dedicare a lui alcune cose ma anche a un ulteriore sussulto di mercato in chiave estate una notizia che potrebbe fare la differenza della quale il Milan potrebbe davvero approfittare per fare un colpo interessante se non altro a livello di occasione dal punto di vista economico-finanziario quindi ragazzi la situazione è questa forza forza e speriamo davvero di riprenderci vi mando un abbraccio iscrivetevi qui chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano scherzi a parte iscrivetevi che siamo quasi 90.000 iscritti soprattutto se avete già visto il nostro canale e siete tornati qui significa che ne apprezzate lo spirito il contenuto e spero anche la professionalità la sincerità soprattutto ecco noi siamo sinceri e trasparenti lasciate un like commentate numerosi qui sotto vi mando un abbraccio e vi rimando anche il video di questa mattina ciao a tutti